Nome Francesca Cognome Coso Turno Età 22 19 Professione Studentessa Tim Eli Eli Perché hai partecipato a The Voice? Perché se no me ne sarei prendita Perché mi ha costretto mia mamma Ti piace The Voice? Sì Cosa non ti piace di The Voice? L'eliminazione Gianluca Chi vincerà The Voice? Io Difficile Chi è il più scarso? Io Che cos'è lo spirito Beagles for you? Stare uniti Allora Lo spirito Beagles è La tontesa Che ci hanno trasmesso Tutti i presentatori Organizzatori E compagnia cantante Senti di avere lo spirito Beagles? Certo Cosa pensi del tuo coach? È molto Elias è vera Al punto giusto però Cosa diresti al tuo coach se ti elimino? Ti voglio bene Le tolgo l'amicizia su Facebook Convinci il tuo coach a portarti in finale Porta a me perché Lo sai che io Quando canto tocco i giudici E quindi vincerò io Facci un pezzo a cappella del primo brano da te cantato Quanto? Il sorriso non lo perdere mai Qualunque cosa ti accada Non poto reposare amore coro Descrivi in cinque parole The Voice Voglio la Tegola di Ercolino Cosa pensi del tuo sfidante? Me l'hai già chiesto Torra Di qualcosa al tuo avversario per incoraggiarlo nella serata Forza Franci Tanto vinco io Quindi tranquilla Canta rilassata Non preoccuparti Perché dovresti vincere tu e non lui? Perché voglio la Tegola Mi serve da mettere in comodino a Cagliari Quindi Per forza Grazie a tutti